Non puoi stare a scartare? No, non puoi stare a scartare Queste le volte frega pure a cucciare quando stai Eh, ma che scheggetto E ti frega la città a capo la velo E ce lo sai E cominciò a cacciare la mano E' una sola 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 C'è dura la canna E' una sola 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 Non vuole solo pesce, quindi si manda solo con la pallota. Ma questo manda solo con lo spaccio, non fa nient'altro. Solo la mettono all'acqua, sennò quando l'attacca si spacca. E sono lasciato all'acqua, un bel po' eh. Questo non ce l'aggiano mai perché se non l'assurdo non danno. Ma faccio stare un po' così. Sicuro con l'acqua poi l'attacco alla spalla. Se non si l'attacca, si spacca, poi puoi buttare il lavoro per giù. Quindi quell'acqua ora l'ammorbidisce? Se l'ammorbidisce poi ci attacca la spalla. Non deve stare a modo, basta bagnare l'acqua. No, no, non ci sta bagnandoci che l'acqua non rende proprio dalla canna. Si ammorbidisce. A posto. Va bene.